giornata della salute mentale schifani al Policlinico di Palermo impegnati attivamente per cure e lotta ai pregiudizi il nostro impegno che assumiamo è di garantire l'assistenza a chi soffre di questa malattia a volte oscure ha pagato l'isolamento abbiamo mantenuto l'impegno lo manterremo sulla lotta al crack abbiamo approvato giorni o sono la legge sufficientemente finanziata di parecchi milioni e questo nel solco di questi impegni manteremo anche questo la nostra attenzione al mondo della sanità è senza senza ma come ho detto poc'anzi sulle liste d'attesa potenziamento dell'emergenza dobbiamo fare in modo che tutta la politica faccia sistema così come anche mi auguro in occasione dell'emerente discussione in parlamento della nuova rete ospedaliera che si abbandonino campanilismi ma che si guardi all'interesse della sanità del cittadino della sua buona assistenza evitiamo i doppioni evitiamo i campanilisti lavoriamo tutti assieme per fare in modo che chi sta male venga ben curato dal servizio pubblico